I carabinieri del comando stazione di Biancavilla hanno denunciato un biancavillese di 37 anni per il reato di incendio doloso. L'uomo stava affrontando la separazione dalla compagna, la quale gli aveva confidato di nutrire sentimenti per un'altra persona. Quindi, invece di tentare di esaminare quelli che erano stati i suoi comportamenti all'interno della coppia e fare il punto su ciò che aveva portato alla loro rottura, ha ben deciso di vendicarsi del rivale dando fuoco alla sua autovettura. Quindi, dopo aver individuato l'abitazione di quello che reputava un avversario in amore, ha riempito di benzina una tanica di plastica da 10 litri e durante la notte si è diretto nella via dove era parcheggiata l'auto nel centro storico. Dopo aver cosparso di benzina il veicolo, ha appiccato il fuoco, lasciando sul posto la tanica e fuggendo per le vie limitrofe. Il piromane tuttavia non ha fatto i conti con le numerose telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che invece i carabinieri intervenuti hanno subito esaminato. Proprio dalle immagini dei filmati, i militari dell'arma hanno ricostruito gli eventi e l'autore della plateale gesto, una persona abbastanza nota in paese per la gestione di attività commerciali. Il giovane è stato denunciato a piede libero e adesso, oltre all'allontanamento dalla compagna, dovrà affrontare anche un processo penale.